laudentur jesus et maria benvenuti a tutti gli amici che ascoltano in diretto che ascolteranno il video il podcast di questa catechesi indifferita siamo alla decima puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero di giuda come sappiamo lo ribadisco insomma per chi magari intercetta questo questo video oppure con qualche algoritmo oppure clicca per ascoltare il podcast per la prima volta questo è un ciclo di catechesi che cerca di approfondire la figura di giuda iscariota alla luce degli scritti di maria valtorta attraverso un testo che è stato curato dal centro editoriale valtortiano che raccoglie appunto tutto quello tutta la vicenda dell'apostolo traditore così come narrata nei dieci volumi dell'opera sul vangelo di maria valtorta siamo a pagina 63 del testo questa è la decima puntata dal titolo abbastanza abbastanza emblematico perché la puntata di oggi si intitola come giuda vorrebbe convertire una meretrice come sempre lo stile che conservo durante queste conversazioni è la lettura del testo e poi il commento o al termine dell'episodio oppure magari io questo non lo posso prevedere in anticipo se c'è qualcosa che ritengo particolarmente utile importante dal punto di vista come dire formativo e pastorale a volte interrompo anche un po prima per fare qualche glossa istantanea perché appunto il c il senso di questo ciclo come tutte e tante le cose che cerco di fare in quanto sia sempre come dire l'edificazione la formazione taglio catechetico quindi sperando che se dio vuole dall'ascolto se ne possa uscire arricchiti in termini di una fede più viva ecco un desiderio di santità più grande un desiderio di conversione più intenso che ovviamente non riguarda soltanto chi ascolta ma anche me che parlo insomma quindi spero che gli stessi effetti possano essere prodotti su di me detto questo penso che sia il caso di cominciare a procedere con la lettura del testo dal mistero di giuda tratto dagli scritti di maria valtorta decima puntata come vorrebbe giuda convertire una meretrice la visione riprende con gesù e i tre discepoli che camminano in una giornata caldissima la zona è collinosa e ricca di futteti dovranno raggiungere i pastori che sono in attesa oltre un colle ormai prossimo dove andiamo dopo maestro in un luogo ancora più caldo ma vi prego di venire viaggeremo di notte le stelle sono tanto chiare che non vi è tenebra vi voglio mostrare un luogo una città no un luogo che vi farà capire il maestro forse meglio delle sue parole chiaro a chi sta rispondendo è gesù è così come colui che ha appena parlato ora abbiamo perduto dei giorni con quello stupido incidente ha sciupato tutto e mia madre che tanto aveva fatto è rimasta delusa non so perché tu hai voluto segregarti fino alla purificazione dice giuda giuda perché chiami stupido un fatto che fu grazia per un vero fedele non vorresti tu per te tale morte aveva attesa tutta la vita il messia si era portato già anziano per vie disagiate ad adorarlo quando gli dissero c'è aveva conservato in cuore per trent'anni la parola di mia madre l'amore e la fede lo hanno investito nell'ultima ora che dio riservava dei loro fuochi il cuore gli si è spezzato nella gioia intenerito come olocausto gradito dal fuoco di dio e quale sorte migliore di questa ha sciupato la festa che tu hai preparata vedi in questo una risposta di dio non vada mescolato ciò che è dell'uomo con ciò che è di dio tua madre mi avrà ancora quel vecchio non mi avrebbe più avuto tutta carriot può venire al cristo il vegliardo non aveva più forza per farlo sono stato felice di aver raccolto sul cuore il vecchio padre morente e di avergli raccomandato lo spirito per il resto perché dare scandalo mostrando spresso alla legge per dire seguitemi occorre camminare per portare su via santa bisogna fare la stessa via come avrei potuto o come potrei dire siate fedeli se infedele fossi io qui quando parlo il maestro divino è impossibile non fare un attimo una sosta per riempirci per fare nostro per assimilare lo dico l'ho già detto prima lo spero non soltanto per voi ma anche per me perché anche a me serve massimamente assimilare queste cose qui fa riferimento Giuda sta lamentandosi perché questo non l'abbiamo letto ovviamente perché altrimenti bisogna leggere tutta l'opera questo è un testo che si focalizza appunto sui dialoghi e sugli episodi in cui in qualche modo Giuda è il protagonista ricorderemo la visita di Gesù a Carriot queste sono le scorse puntate e anche tutte quante le cose che quella santa donna che era una santa donna la madre di Giuda fa aveva fatto su diciamo sollecitazione per usare un eufemismo diciamo così su ordini perentori se volessimo dire la verità del figlio quindi di Giuda che le aveva detto che veniva in casa il Messia e quindi che doveva essere trattato da E quindi nella puntata precedente se volessimo la precedente o forse due puntate fa adesso non ricordo si vedeva quindi Gesù che arriva a Carriot dentro la casa la madre che gli prepara una veste nuova regale i sandali nuovi tutti elaborati tutti complicati tutti sgargianti tutti tutti belli eccetera e anche altre cose che Gesù stesso a un certo punto rifiuta abbastanza seccato anche e riproverando Gesù dice ma che cosa gaspita ha combinato insomma che cosa gli ha detto tua madre lo sa io chi sono lo conosci il mio stile cioè che ti metti a fare queste queste cose ecco solo che in quel contesto a un certo punto Gesù esce e incontra questo anziano vegliardo che erano era un po' una sorta di alter ego del Simeone del Tempio di cui ci parlo di Vangelo che aspettava il Messia e che succede vede Gesù Gesù si manifesta si fa conoscere come Messia e questo muore sul colpo quindi capite quello che Giuda dice festa finita festa guastata c'è un morto di mezzo e quindi Giuda si sta lamentando questo è il contesto che origina questo primo dialogo cioè abbiamo avuto dei giorni con quello stupido incidente e Gesù lo corregge chiami stupido un fatto che fu grazia per un vero fedele no giusto non vorresti tu per te tale morte chiediamocelo un po' che bella morte no vedi Gesù è veramente come Simeone dice ora lascio Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola morire meglio di così volesse il cielo insomma che fosse possibile per ciascuno di noi io a me mi permetterei di augurarlo poi se qualcuno non gradisce questo augurio come non detto bellissimo avevo conservato in cuore per 30 anni la parola di mia madre questo vecchio era uno di quelli che era stato intercettato da Maria durante la sua sosta evidentemente in occasione della nascita di Gesù a Betlemme Eriot era in Giudea quindi sicuramente non doveva essere molto lontana da da Betlemme no e questo è morto di gioia questo qui e la cosa importantissima che il cuore gli si è speziato nella gioia incennedito come locausto credito dal cuore di Dio perché questo era stato guidato dall'amore e dalla fede e quindi avendo vissuto una vita nell'amore e nella fede in occasione di quel contesto l'amore e la fede dice Gesù lo hanno investito dei loro fuochi vedete che si muore ordinariamente così come si è vissuti questo è un dettaglio che non dobbiamo mai dimenticare ma la cosa più importante che Gesù dice è che è molto destruttiva anche per noi e questo dice perché chiami disgrazia una roba del genere ha sciupato la festa che avete preparato attenzione a quello che dice vedi in questo una risposta di Dio vedete l'arte delle arti guardate che una delle cose più importanti ma anche più difficili che dobbiamo imparare a fare nella vita cristiana è riconoscere quando Dio ci parla perché Dio ci parla figlioli e cari in continuazione il problema è che la sta grande maggioranza dei nostri occhi e delle nostre orecchie sapere che succede sono simili a quelle dei discepoli di Emmaus prima che Gesù si manifestasse loro incapaci di riconoscerlo la Sacra Scrittura dice di noi incapaci di comprendere la giustizia e le leggi incapaci anche di vedere di discernere di distinguere in molte circostanze il bene dal male o quelli che sono punti voleri di Dio in qualche situazione magari contingente della nostra esistenza qui Gesù dà una dritta vedi in questo una risposta di Dio e quindi questo ci dà anche un criterio no? quindi una cosa non prevista quindi successa in maniera un pochino appunto casuale tra virgolette che va a sconvolgere i piani umani quindi rintessuti orditi scogitati pensati e anche in larga parte attuati per quel giorno quindi non solo questa è una cosa buona ma non è un caso che sia successo a fine anche di guastare la festa perché è costato la festa certo che è costata la festa ma tu anziché lamentarti e biasimarti e quindi ridurre quindi vedere le cose con vista umana che stupido incidente trai esempio perché è evidente che il signore stava dicendo a Giuda questa festa per quanto posso credire la buona intenzione ma è assolutamente inopportuna e Gesù durante quella circostanza chi ha seguito la puntata lo ricorderà ha manifestato un certo disagio non si trova a suo agio in questo contesto in questo ambiente no? non vada mescolato dice Gesù ciò che è dell'uomo con ciò che è di Dio e questo non dobbiamo farlo mai neanche noi non mescolare ciò che è dell'uomo con ciò che è di Dio fuori metafora in questa circostanza contingente la festa con come dire il premio la salvezza di un'anima fedele che esce dal corpo e che quindi raggiunge la patria beata tu non ti puoi dice Gesù alterare per questa cosa perché stai leggendo in maniera umana e quindi interferendo con una lettura umana l'opera di Dio e questo non è soltanto peggio in generale ma è peggio in particolare per te che appunto su questo particolare non hai la luce per discernere ecco detto questo questo mi sembrava molto molto importante no? e poi c'era un'altra perché si lamentava anche della della purificazione allora Gesù è vissuto in un contesto storico culturale religioso dove ancora era in perfetto vigore la legge di Mosè che lui ha osservato perché la legge di Mosè anche le prescrizioni cultuali di questo genere sono state abolite in ultima cena con l'istituzione del nuovo sacrificio dice San Tommaso ma fino a quel momento erano perfettamente in vigore vedete anche quanto è importante la dimensione tempo cioè il nostro rapporto con Dio dobbiamo sempre pensare che deve essere impostato tenendo presente di alcuni parametri che i suoi occhi sono importantissimi quindi fino a quando rimane in vigore una legge che è stata data da Dio no? anche se a titolo transeunte perché la legge dell'antico vestamento non era una legge definitiva non era una nuova ed eterna alleanza era un'alleanza tempo a pro tempore a scopo pedagogico scrive San Paolo nelle sue lettere per appunto mettere in condizione un popolo dopo aver vissuto nella fedeltà a Dio di poter essere il luogo ideale per l'accoglienza del figlio di Dio fatto carne quindi Gesù è stato un perfetto esecutore della legge di Mosè e qui ne spiega la ragione perché dare scandalo mostrando sprezzo alla legge con la L maiuscola ovviamente numero uno dobbiamo fare sempre attenzione ai nostri comportamenti esteriori questo vale anzitutto per noi preti ma vale mutatis mutandis e in piccolo anche per i laici facciamo un esempio se un prete dice siate mi raccomando rispettosi e devoti verso la santa eucaristia verso la santa messa verso la santa comunione eccetera eccetera e poi quando celebra si vede che lui è abbastanza sciatto nel senso che nel maneggiare l'ostia nel come vive la parte centrale della messa quindi la consecrazione e il resto appare un pochino superficiale frettoloso purtroppo ho detto tante volte nella messa nuova il cosiddetto vedo sordo queste cose si vedono perché primo si dice alta voce secondo si dice lingua volgare e terzo si dice faccia al popolo ordinariamente anche se questo non sarebbe obbligatorio non sarebbe diutare su una parte però questo è quindi l'ubbidienza e il non scandalizzare dando il buon esempio se un prete è uno scellerato purtroppo come fa poi a dire abbi riguardo verso l'ostia consacrata amma tanto Gesù non l'ostia consacrata mostrate la massima di riverenza e deduzione possibile perché chi lo ascolta dice a me mi viene a dire ma ma facciamo medico pura te ipsum come disse ora Gesù no? dittela a te queste cose perché sei tu che devi essere prima a metterle in pratica non io quindi l'esempio è sempre la più grande predica quando sapete quante volte noi poveri parloci in cura d'anime capita che ti viene la persona che è stata vista che è stata disperata un po' per cose sue ma un po' per situazioni e e problemi eminentemente familiari e allora che si fa si cominciano a fare le prediche quando una persona va in crisi no? supponiamo classiche famiglie in cui il marito non va mai in chiesa la moglie dopo si converte e diventa un pochino devota bene che cosa si farà? cominciano a fare prediche 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 Gesù non ha detto che nella preghiera non si devono spiegare troppe parole perché non serve dirle perché il padre è già saputo di quello che abbiamo bisogno e ha accenziato una preghiera breve perché il padre nostro è breve e che è un concentrato delle cose che sono da chiedere a Dio che sono sempre però c'è anche la possibilità di pensare che io moltiplicando le parole quindi facendo una testa come un pallone si dice a Roma perdonatemi intanto qualche licenza francesistica di questo genere no? perché te la disce un pochino le mie origini non è che una persona si converte e tu mi fai la testa come un pallone a Napoli dicono una capatanta a forza di chiacchiere 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 per carità anche chiacchiere come dire finalizzati a delle esaltazioni buone ma non è così quindi oltre alla preghiera e alla penitenza che si deve fare quando ci troviamo in circostanze in cui appare che i destinatari del nostro zelo apostolico del nostro zelo evangelico che sono un pochino riflattati cosa è da fare? buon esempio il buon esempio è una testimonianza vivente è vivente no? e quello è sempre possibile adesso proseguo la lettura se no nonostante questo sia un capitolo breve lo finiamo entro questa sera perché mi sono dilungato un pochino allora Giuda riprende credo che questo errore sia la causa della nostra decadenza i rabbi e i farisei accasciano il popolo sotto i precetti e poi poi fanno come quello che ha profanato la casa di Giovanni facendone un luogo di vizio osserva Simone è uno di Erode ribatte di Scariota sì Giuda ma le stesse colpe sono anche nelle caste che si dicono da sé lo dicono da sé se lo dicono sante che ne dici maestro? dice Simone dico dice Gesù che solo se vi sarà un pugno di vero lievito di insenso in Israele si formerà il pane e si profumerà l'altare che vuoi dire? voglio dire che se vi sarà chi verrà la verità con cuore retto la verità si spargerà come lievito nella massa della farina e come incenso per tutto Israele che ti ha detto quella donna? chiede Giuda che si riferisce ad Aglae conosciuta ad Ebron Gesù non risponde si vuole Giovanni pesa molto e fatichi dammi il tuo carico no Gesù ribate Giovanni sono uso e pesi e poi me lo fa leggere il pensiero della gioia che ne avrà Isacco il poggio è girato all'ombra del bosco del bosco vedono Gesù e corrono la pace a voi qui siete eravamo in pensiero per te dicono dicono i pastori e per il ritardo incerti se venirete incontro e ubbidire abbiamo deciso venire sin qui per ubbidire a te e al nostro amore insieme dovevi essere qui da molti giorni abbiamo dovuto sostare ribatte Gesù ma nulla di male dicono i suoi interlocutori no nulla amico la morte di un fedele sul mio petto non altro cosa vuoi che accadesse pastore quando le cose sono ben preparate certo bisogna sapere preparare e preparare i cuori a riceverle la mia città ha dato al Cristo ogni onore non è vero maestro sappiamo bene che qui è di nuovo parlato Giuda no Gesù conferma è vero e parla d'altro con Isacco uno dei pastori ritrovati che gli aveva guarito dalla sua infermità maestro dice lì quella donna che sta nella casa di Giovanni quando tu eri via da tre giorni e noi pasturavamo le pecore sui prati di Ebron perché sono di tutti i prati e non ci potevano cacciare ci mandò una servente con questa borsa e dicendo che ci voleva parlare non so se ho fatto bene ma per la prima volta ho reso la borsa e ho detto non ho nulla da udire poi lei mi ha fatto dire vieni in nome di Gesù e sono andato ha aspettato che non ci fosse il suo insomma l'uomo che la tiene quante cose ha voluto anzi voleva saperle sapere quante cose ha voluto anzi voleva sapere ma io ho detto poco per prudenza è una meretrice temevo fosse un tranello per te mi ha chiesto chi sei dove stai che fai se sei un signore io ho detto è Gesù di Nazareth è dappertutto perché è un maestro scusate ho perso un attimo il segno perché è un maestro e vai insegnando per la Palestina ho detto che sia un uomo povero semplice un operario con la sapienza ha fatto sapiente non di più hai fatto bene dice Gesù e contemporaneamente Giude esclama hai fatto male perché non hai detto che è il Messia che è il re del mondo schiacciarla la superba romana sotto il fulgore di Dio ma non mi avrebbe capito e poi ero certo se era sincera l'hai detto tu quando la vedesti cosa è lei potevo gettare le cose sante e tutto ciò che Gesù è santo che Gesù è santo in bocca a lei potevo mettere in pericolo Gesù dando troppe notizie da tutti gli venga male ma non da me andiamo noi Giovanni a dirle chi è il maestro e spiegarle la verità santa io no dice chiaramente Giovanni a meno che Gesù non me lo ordini hai paura e che vuoi che ti faccia è schifo non l'ho avuto il maestro non paura e non schifo ho pietà di lei ma penso che se Gesù voleva poteva fermarsi a distruirla non lo ha fatto non è necessario farlo noi allora non c'erano segni di conversione ora fai vedere Elia la borsa e Giuda rovescia su un lembo del mantello poiché si è seduto sull'erba il contenuto della borsa anelli armille braccialetti una collana rotolano oro sul giallo opaco della vese di Giuda tutti i gioielli che ne facciamo si possono vendere dice Simone sono cose noiose obietta Giuda che però li ammira glielo ho detto anche io nel prenderli ho anche detto il tuo signore dibatterà mi ha risposto non è roba sua mia è ne faccio ciò che voglio so che è oro di peccato ma diventerà buono se usato per chi proprio è povero e santo perché si ricordi di me che piangeva vacci maestro no mandaci Simone no allora vado io no i no di Gesù sono secchi e imperiosi ho fatto male maestro a parlare con lei a prendere quell'oro chiede Elia che vede Gesù serio non è fatto male ma non c'è nulla di più da fare ma forse quella donna vuole redimersi e ha bisogno di essere ammaestrata obietta ancora giuda e Gesù risponde in lei sono già tante scintille alte a suscitare l'incendio in cui può arder il suo vizio e rimanere l'anima rinverginizzata dal pentimento poco fa vi ho parlato di lievito che si sparge per la farina e la fa santo pane udite una breve parabola quella donna è farina una farina in cui il maligno ha mescolato le sepolveri d'inferno io sono il lievito ossia la mia parola è il lievito ma se troppa pula è nella farina o se sassi e rena vi è mescolata e cenere con essa può farsi il pane anche se il lievito è buono non può farsi occorre che impazientemente si levi dalla farina pula cenere sassi e rena la misericordia passa e offre il suo cripello il primo quello fatto da brevi verità fondamentali quali sono necessarie per essere comprese da uno che è nella rete della completa ignoranza del vizio del gentilesimo se l'anima lo accoglie comincia la prima purificazione la seconda avviene col cripello dell'anima stessa che confronta il suo essere con l'essere che si è rivelato e ne ha orrore e inizia la sua opera per un'operazione sempre più minuta dopo i sassi dopo l'arena dopo la cenere giunge a levare quello che è già farina ma con granelli ancora pesanti troppo pesanti per dare ottimo pane ora eccola tutta pronta ripassa allora la misericordia e si mette in quella farina preparata anche questa è preparazione giuda e la solleva e la fa pane ma è operazione lunga è di volontà dell'anima quella donna quella donna già insegue il minimo che era giusto darle e che le può servire a compiere il suo lavoro lasciamo lo compia se vorrà farlo senza turbarla tutto turbo un'anima che si lavora la curiosità gli zeli inconsulti le intransigenze come le eccessive pietà allora non ci andiamo no dice gesù e perché non abbia nessuno di voi la tentazione partiamo subito nel bosco e ombra sosteremo alle falde della valle del telebinto e là ci separeremo e lì tornerà ai suoi pascoli con levi mentre giuseppe verrà con me sino al guado di gerico poi ci riuniremo ancora tu isacco continua ciò che facesti aiuta andando da qui per arimatea e lì da sino raggiungere dopo la ci troverete troveremo vi è da preparare la giudea e tu sai come farlo come fatto aiuta e noi voi verrete ve l'ho detto per vedere la mia preparazione anche io mi sono preparato alla missione andando da Urrabbi no da Giovanni risponde Gesù nel presso il battesimo e allora Betlemme ha parlato con le pietre ed i cuori anche lì dove ti porto giù da le pietre ed un cuore il mio parleranno e ti daranno risposta Elia che ha portato latte e pane oscura oscuro dice ho cercato mentre attendevo e con me ha cercato Isacco di persuadere quelli di Ebron ma non credono non giurano non vogliono che Giovanni non vogliono che Giovanni è il loro santo e non vogliono che quello peccato comune a molti paesi e a molti credenti presenti e futuri guardano l'operaio e non il padrone che ha mandato l'operaio chiedono all'operaio senza neppure dirgli di al tuo padrone questo dimenticano che l'operaio c'è perché c'è il padrone e che è il padrone che istruisce l'operaio e lo rende atto al lavoro dimenticano che l'operaio può intercedere ma uno solo può concedere il padrone in questo caso Dio è il suo verbo con voi non importa il verbo ne ha dolore ma non rancore noi andiamo allora il brano è finito amici carissimi mi prendo ovviamente qualche sono avviato fino alla fine per non interrompere un'altra volta mi prendo qualche minuto adesso sì per qualche breve dei commenti e ripercorrendo qualche passaggio fondamentale numero uno quello importantissimo è la conversione di un'anima Aglae o Aglae non ho mai capito come si pronuncia questo nome qui era una grande peccatrice una donna che ne aveva fatta adeguante Carlo in Francia e ovviamente sempre sul solito un grande peccato che lascio intendere quale sia e che purtroppo era stata iniziata al male quando era molto molto bambina e quindi un po' una cronaca di una morte annunciata ora questa donna l'acqua speciosa sentendo di nascosto Gesù e ricevendo qualche discreta visita di Sant'Andrea Apostolo aveva cominciato il suo processo di conversione e qui Gesù spiega alcune cose guardate queste sono cose importantissime e se mi posso permettere perché ne ho parlato anche recentemente quello che Gesù dice qui per la conversione vale anche per la scoperta della propria vocazione allora quando una persona comincia un cammino di conversione ancora non non sigillato deve essere lasciata in pace perché ci pensa Dio a trattare con lei certamente a volte anche attraverso i suoi ministri il primo intervento che Dio fa su un'anima che è lontana è brevi verità fondamentali brevi verità fondamentali soprattutto le verità oggi ampiamente paciute facciamo un elenco per esempio peccato tra le verità fondamentali e le poche per esempio è dire chiaramente parlare del peccato e spiegare quali sono i peccati perché le anime vanno all'inferno non soltanto perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro come disse bene la Madonna ovviamente a Fatima ma anche per l'ignoranza che molto spesso è colpevole è necessario che qualcuno sia istruito ora se l'anima dinanzi a queste verità fondamentali non si irrigidisce non si oppone ma le accoglie quindi comincia ad ascoltare parte il suo cammino di conversione ora a questo punto però subentra una fase uno step dove l'anima è sola con Dio non ci entrano di mezzo gli intermediari non c'entra il predicatore non c'entra il padre spirituale non c'entra nessuno questa dimensione figlione Megare è di un'importanza a mio avviso capitale perché ci fa comprendere come le grosse scelte di vita noi le prendiamo davanti a Dio quindi il primo fatto quello da breve le unità fondamentali quali sono necessarie per essere comprese da uno che è ancora nella rete dell'ignoranza se l'anima lo accoglie comincia la prima purificazione la prima purificazione la seconda ecco quindi si è innescato il meccanismo però dice Gesù avviene col crivello dell'anima stessa che confronta il suo essere con l'essere che si è rivelato e ne ha orrore ecco qui domanda figliore miei cari c'è capitato mai nella vostra vita di avere orrore di noi stessi ma non l'orrore dovuto a cause diciamo così psicologiche o addirittura a cause peccaminose no uno si guarda allo specchio e si vede che è obeso dice no devo fare assolutamente la dieta perché chi me guarda così questo non è virtù ok non è questo comincia però il lavorio interno il crivello dell'anima il confronto silenzioso che viene in coscienza tra l'anima e il suo dio che chiaramente la gradualmente in veste di luce si è ben disposta e le fa capire tutto quello che ha fatto anzitutto sta prima purificazione e dopo questa esperienza come esperienza dolorosa quindi che cosa deve cominciare a fare quest'anima deve cominciare a liberarsi a fare pulizie via i sassi via la rena ecco e quando arriva la farina addirittura toglie pure i granelli più pesanti perché si è fatta ancora meglio ecco quindi input brevi parole secondo step crivello dell'anima su se stessa quindi il lavoro interiore per non vanificare la grazia ricevuta terzo ripassa la misericordia dice Gesù e si mette in quella farina preparata la solleva e la fa pane ma questa è operazione lunga e di volontà dell'anima che qui prendiamo una matita rossa che io è operazione lunga e di volontà dell'anima che cosa vogliamo noi dalla vita diciamo se non ci lo siamo detti noi che cosa vuoi dalla vita che cosa voglio dalla vita io che cosa mi aspetto che cosa cerco che cosa desidero che vuoi adesso quando qualcuno un pochino seccante dice ma tu che vuoi ce lo siamo mai chiesto gliel'abbiamo detto al Signore che cosa vogliamo lui ci studisce di tante cose diciamo il Padre Nostro la prima cosa che si dice è santificare il tuo nome si è santificato il tuo nome Gesù ce l'ha messa in bocca questa preghiera bisogna dirla però dirla col cuore è meglio col cuore significa non in maniera sentimentale ma coscientizzando le richieste e quindi facendo in modo che quelle richieste siano richieste veramente sentite no santificetur nomentum sia santificato il tuo nome ci abbiamo voglia che diventa santi perché questo chiede questo significa sia santificato il tuo nome ecco e quindi Gesù dice attenzione questa operazione lunga di volontà quindi tutto turba la curiosità da impicciare o impicciare o la curiosità per favore cerchiamo di toglierla dall'andarsi a impicciare questo è il classico fenomeno che succede in ambienti parrocchiali no? le cosiddette con mari che cosa sta succedendo a quello chi lo sa che tipo di che gli avrà detto il parroco che sta cambiando un po' nei casi diciamo invece di ambienti ostili il parroco gli avrà fatto il lavaggio del cervello quindi la curiosità se mi posso permettere la curiosità deve essere bandita dal nostro cuore bandita anche quando si hanno delle buone amicizie o una buona amicizia non è buona si è inficiata dalla curiosità non si indaga sugli affari del prossimo poi gli zeli in consulti un'anima che è stata lontana da Dio deve avere il tempo deve avere bisogno perché quella cioè il nostro signore la prende anche per mano perché se magari le mostrasse di getto l'orrore veramente l'orrore lo stato terrificante della sua anima quella la prende la calibro 38 e si spara la testa allora il signore lo fa ma lo fa con calma senza zeli in consulti che sono proprio di noi creatore e poi le intransigenze come le eccessive pietà l'intransigenza è la degenerazione della severità e l'eccessiva pietà è la degenerazione della giusta misericordia e qui trovare l'equilibrio è molto difficile vi dicevo che la stessa cosa accade durante la vocazione la vocazione è analoga quindi il signore delicatissimamente fa sentire all'anima la vocazione chiamiamola così intendendo con vocazione quella che comunemente si si intende con questo termine la vocazione diventa sacerdote entrare in convento entrare in monastero però siccome il nostro signore è un signore come tante volte ho detto che succede che c'è questa prima input quindi generalmente è una cosa molto molto indefinita molto molto generica dopodiché comincia la lotta interiore specialmente più uno sta come dire inguagliato diciamo così con altri progetti più questa cosa è intensa se la cosa si supera se vedete che succede succede che l'anima sicuramente andrà a chiedere un direttore spirituale andrà a chiedere di fare degli step per essere messa in contatto con qualche istituto o con la realtà verso cui si sente chiamato ok e poi ci sono rose fioritano ci sono gli step ulteriori no chiaramente quando Gesù dice verrete a vedere come mi sono provata la missione qui fa riferimento al fatto che li porta questo è un altro episodio di Medio Votorta li porta nel deserto a fargli vedere il deserto dove lui dopo il battesimo di Giovanni ha digiunato per 40 giorni no e infine Gesù chiude dicendo guarda che Betlemme ha parlato con le pietre di cuori anche dove ti porto le pietre di un cuore il mio parleranno e ti daranno risposta anche questo dobbiamo ammazzarsi Gesù si è preparato alla sua missione con 40 giorni di digiuno assoluto severissimo l'ha fatto noi non siamo più grandi di lui ovviamente no quindi i suoi esempi devono essere sempre presenti nel nostro cuore Cristo ha fatto per noi lasciando un sceno esempio perché in seguito delle orme si legge la via lettera di San Pietro e poi Gesù dice che la gente di Ebron è fissata con San Giovanni rimasta attaccata a lui e non vede nient'altro e qui Gesù trae l'occasione per ammonire anche noi su un certo tipo di rapporto con la creatura fosse anche una creatura che è un ministro rappresentante di Dio non si può confondere l'operaio col padrone non si può confondere San Paolo direbbe Dio e Belial no? non è possibile quindi dimenticano che l'operaio c'è perché c'è il padrone e che è il padrone che studisce l'operaio e non rende altro lavoro dimenticano che l'operaio può intercedere eccetera eccetera ecco quindi amici mi raccomando ricordiamo questi questi aspetti un grande rispetto e una grande sensibilità verso le anime che stanno lavorando a riformare e a ricostruire se stessi nei percorsi di conversione bene direi che possiamo fermarci per oggi Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga l'audentur Jesus et Maria